Tutti gli elettori piacentini sono chiamati al voto il 26 maggio per le elezioni europee e oltre 85.000 si esprimeranno anche per il rinnovo delle amministrazioni di 30 comuni. Oggi in prefettura sono arrivati i fax simile delle schede che potete trovare sul nostro sito liberta.it. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio. Nessuno dei comuni del piacentino al voto supera i 15.000 residenti, perciò non sarà necessario il turno di ballottaggio. La lista e il candidato sindaco che prenderanno un voto in più degli avversari saranno eletti alla guida del comune. Sono 64 complessivamente le liste presentate con i rispettivi aspiranti sindaci. I consiglieri che verranno eletti sono 332, 10 per ogni comune al di sotto dei 3.000 abitanti e fino a 10.000. Il comune più popoloso chiamato al voto è Castel San Giovanni, l'unico a eleggere 16 consiglieri.